bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati per 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 la serie delle sette la seven serious con i nostri gamberetti alla conquista del mondo signori miei allora reso conto veloce noi siamo ottavi l'altra volta abbiamo fatto due belle vittorie in campionato bella così siamo ottavi a 16 punti ci stiamo difendendo bene raga io l'unica cosa voglio fare prima di partire con le partite e vedere gli obiettivi che non abbiamo completamente guardato alla crescita giovani ingaggia un giovane in prima squadra della stessa regione in cui sono stati seguiti scrivere per cinque partite all'inizio del gara in corso va bene e poi ingaggia almeno due giocatori con meno di vent'anni con un potenziale superiore alla produzione media questo è più complicato mantieni questo l'abbiamo fatto non finire in posizione abbassa anche la serie siamo ottavi nella fk raggiungi 16 minuti finali non ci riusciremo mai mantieni l'aumento dei stipendi sotto il 20 per cento per ora ce l'abbiamo a 13 per cento buono quindi siamo in linea con gli obiettivi il raga siamo in linea con gli obiettivi allora dobbiamo levare wilding che si è rotto per due mesi lo vedremo praticamente a dicembre entra che non per forza e leviamo wilding anche da qui e facciamo entrare brewitt e va bene così va bene così ok la formazione ce l'abbiamo i giocatori si sono riposati partiamo con la serie di partite speriamo di continuare la stile della nostra striscia positiva oggi giochiamo contro l'oldam atletic che sopra di noi signori miei quindi dovessimo riuscire a vincere sarebbe tanta roba grido di battaglia hashtag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti bello grande il nostro park il nostro uomo che porta il tè al parco bella così 1 a 0 zitto zitto al trentunesimo bello raga bello raga raga ci sto credendo in questa cosa ci sta che mi sta mi sta prendendo questa serie raga mi sta prendendo tanto siamo settimi a 19 punti piena zona playoff pronti per salirci in serie dalla serie league to league one non so dove 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 saliamo forse league one bella così raga mi sta mi sta gasando questa serie dagli così dagli così male bella bella non mi aspettavo mi aspettavo un campionato proprio sarei ritratto offerta per tutte e vabbè a gennaio poi ne riparliamo zio mi aspettavo una serie più complica più sconfitte di seguito raga invece però ci stiamo difendendo bene siamo settimi a 19 punti non bisogna non bisogna non bisogna lì tu siamo ancora in campionato che giochiamo contro il northampton che non so dove si è in campione in campionato noi abbiamo i nostri 11 titolari che non tocchiamo perché devono essere loro i nostri titolari grido di battaglia hashtag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti 1 a 1 va bene va bene va il nostro ragia aveva portato in vantaggio i gamberetti al 73 ci siamo fatti pareggiare da smith all 88 ok va bene dai è sempre un pareggio un punto che ci portiamo a casa raga non 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 lamentiamoci siamo sesti a 20 punti siamo sesti a 20 punti dopo 11 giornate raga io pensavo di essere nell'oblio più totale praticamente stoccom sala 61 bravo stocco e raid sala 55 bravo raid stocco continuate così allenatevi bene raga mi raccomando mi raccomando facciamo crescere questi giocatori siamo a ottobre signori miei abbiamo nuovamente il nostro osservatore che è tornato va bene vediamo chi ci ha portato questa volta il nostro serata dalla scozia duncan drummond questo è quello il portiere che abbiamo tenuto lì bello bellino lasciamolo ancora lì malcolm young è un attaccante sinistro 62 80 io con gli attaccanti sinistri raga non c'ho che fare già abbiamo preso quello dell'altra volta e non è bellissimo ora abbiamo long logan mcneill 63 87 17 anni se noi questo non è male lasciamoli vediamo effettivamente in quale posizione del campo gioca ben mccaccio 53 73 no mccaccio no no mi dispiace e alastin mitchell 66 92 questo è interessante teniamocelo ancora bello in caldo 66 92 c'è un overall bassissimo praticamente di partenza 38 54 però può crescere bene teniamoceli qua teniamoceli qua e andiamo avanti vediamo se sono realmente interessanti questi giocatori oppure no allora noi siamo 20 punti giochiamoci questa partita contro non so quale squadra giocatori impegnati che è paranoia contro il port vale ci sono giocatori impegnati con la nazionale new brew luis e raja speriamo che non per questa partita perché se no ok no per questa partita ce l'abbiamo a giocare fuori casa contro il port vale attenzione la partita parte grido di battaglia hashtag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti 2 a 1 raga ma io non ci credo raga 2 a 1 vantaggio nostro di canon 2 a 0 di stockholm e 2 a 1 dolo di tricket dal 66 la partita finisce noi con l'uomo in meno siamo riusciti a porterci a casa 3 punti contro il port vale mamma mia raga spettacolo dai che ce ne andiamo in league one ce ne andiamo ce ne andiamo ce ne andiamo in league one league one league one siamo a 23 punti raga ecco il chest era 29 prendi il raggiungibile però siamo a 23 punti la promozione diretta dista 4 punti la promozione diretta dista 4 punti quindi dico possiamo difenderci bene ricordiamoci raga che il mio obiettivo era quello semplicemente di fare una stagione veloce non puntare direttamente ai playoff e invece noi ci stiamo arrivando ai playoff raga brewitt diventa un 61 bravo e wilson un 58 wilson poi vediamo perché wilson è un attaccante destro io ripeto con gli attaccanti destri e attaccanti sinistri non non mi fanno tanto simpatia perché non non li schiero bene in non ho una formazione per poterli schierare quindi vediamo poi se se lo possiamo adattare da qualche altra parte oppure no qua mi suggeriscono un discorso di capitano non mi interessa giochiamo contro il bradford che è sopra di noi ragazzi e qui arriva la batosta qui arriva la batosta raga qui allora fuori che non e facciamo giocare brewitt che finora si sta difendendo bene si sta allenando bene brewitt leviamo che non e mettiamo dentro tutte così eventualmente entrerà lui lui si è andato in nazionale anche raggi a posto stiamo giocando con i panchinari raga la partita con la seconda in classifica bene bello così bello così proprio quando si dice le cose fatte bene ottimo 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 quindi sconfitta sicura raga sconfitta sicura non ci credo nemmeno io non ci credo nemmeno io raga con la seconda in casa con la seconda in classifica stiamo giocando con metà squadra di panchinari però noi ci crediamo grido di battaglia hashtag forza gamberetti forza gamberetti forza gamberetti da niente mannaggia mannaggia è uscito dele per reo sullivan e loro vincono 2 a 0 e vabbè al secondo e l'ottantaseesimo non abbiamo fatto assolutamente niente in questa partita va bene e vabbè dai ci sta con la seconda in classifica era durato tanto il nostro il nostro sogno praticamente quindi va bene così va bene così va bene così raga la nostra striscia di risultati utili era stata fin troppo lunga speriamo di non affossarci ma di continuare una buona retta squalifica scontata ehm vabbè nemmeno rimpiazzarmi solo che mi sentivo minacciato di me per arrivare qualcuno aveva detto ringrazio per il chiarimento sta andando benissimo non so che problemi abbia craston non gioca da quando geppetto faceva ancora il fallegname però diciamo che sta così in fiducia va bene così offerte per tutte a zio ma quasi quasi io vedo di accettarle raga non facciamo che poi a gennaio non arrivano più queste offerte così quantomeno tutte ce lo andiamo a sistemare da qualche altra parte ok tutto è dato in prestito sempre se lui accetta andiamo a giocare contro il colchester ottimo perfetto altra partita con la prima in classifica raja vuole giocare chi è che si lamenta nio bru nio 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 ci penserò e anche a raj ci penserò allora contro il colchester siamo fuori siamo ospiti allora andiamo a rimettere al posto di rocher nio bru al posto di braxton andiamo a rimettere raj al posto di brewitt andiamo a rimettere kanon e va bene dobbiamo giocare per forza con loro con i nostri titolarissimi raga non abbiamo dei sostituti che possono sinceramente impensierire le altre squadre contro il colchester ci starebbe un pareggio raga ma abbiamo perso 2 a 0 a casa con la seconda in classifica col colchester non mi spreco neanche il grido di battaglia raga 2 a 2 mamma mia non me l'aspettavo non me l'aspettavo stoccom norris norris stoccom l'abbiamo presa così sul filo di lana all'ottantaseisimo porca miseria porca miseria mamma mia bella 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 così bella così andiamo avanti con gli allenamenti però sto allenando loro poi tra un po' poi vediamo di cambiare qualche giocatore a parte quelli delle giovanili wilson e raid che devono crescere come non si sa che cosa gli altri eventualmente poi vediamo di fare un po' da rotazione così crescono un po' con tutte sullivan si sta lamentando a sullivan mio mamma mia continua a lavorare così raja non prendertela mister il tuo posto di squadra non è a rischio sullivan è un 65 effettivamente non è proprio l'ultimo arrivato aggiornamento mensile ok luis vorrebbe giocare a luis ma che stai di aggiornamento mensile vediamo che ci hanno portato dall'inghilterra george roberts 69-93 questo gioca in tutte le zone del campo va bene teniamolo teniamolo così vediamo in che zona di precisità il campo gioca e luis kelly 53-71 no kelly mio mi dispiace grazie per il particione dal talent ma no non sei niente di interessante ci teniamo se non è vicinamente l'altro che magari può crescere bene luis vuole giocare diciamo che ci penserò vediamo vediamo detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video noi siamo sesti in campionato con 24 punti andiamo a vedere un attimino la classifica anche per fare un attimo mente locale noi stessi allora siamo sesti in classifica zona playoff a 24 punti sotto di noi l'Alexandra è a 21 e l'Old Atlantic pure a 21 quindi abbiamo 3 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici le altre zone col cestere a 31 punti Bedford City 35 e Salford 33 siamo lì raga siamo lì siamo lì ultimo in classifica è il Cambridge United con 4 punti quindi raga dai siamo messi bene cioè la zona retrocessione è molto giù abbiamo 12 punti c'ha la terza ultima noi ne abbiamo 24 siamo messi abbastanza bene detto questo ragazzi vi ringrazio per aver partecipato a questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti che mi darete e soprattutto per il supporto che darete a questa serie noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 Grazie per la visione!